Appena concluso il Consiglio Comunale di oggi del 10 di novembre 2023, l'opposizione si è presentata partecipando a delle votazioni in maniera differente. Perché? Guarda, io il termine opposizione alla mia forza politica, a me quel termine non piace. Perché noi siamo, l'ho detto altre volte, noi siamo i consiglieri comunali della città di Tarruisano. Attualmente non rivestiamo il ruolo di maggioranza, ma rivestiamo il ruolo sempre di consiglieri all'interno del Consiglio, non di opposizione perché non siamo contro nessuno. Noi siamo per la nostra città e tuteliamo gli interessi che noi vogliamo per la nostra città. Quindi questo non è un modo diverso di votare, non è un modo di schizofrenia politica. Ecco perché forse ho anche alzato la voce, ma il sindaco ha subito corretto che quel lavarsi le mani dell'astenzione non era rivolto alla forza politica che rappresenta. Perché? Perché lo abbiamo dimostrato anche negli ultimi due punti. In linea generale, quando c'è qualcosa che riteniamo utile per la nostra città, noi votiamo favorevolmente perché non ci sentiamo a seconda del ruolo che occupiamo di avere una schizofrenia politica. Le nostre idee sono chiare. Quindi, nonostante entrambe le procedure degli ultimi due punti siano di adozione urgente e poi comunque la partecipazione e quindi l'adozione definitiva, alla prima, l'approvazione del piano regolatore generale alla luce dello schema tipo di quello regionale. Non abbiamo avuto il tempo per poterlo leggere tutto. E quindi, siccome siamo convinti che gli schemi tipo regionali non siano perché vengano adottati secret sempliciter, ma danno lo spazio alle scelte politiche più consone al Paese che l'adotta, in quel caso noi abbiamo espresso un voto di astensione. Per questo motivo, così come invece all'ultimo punto, dove c'era il piano colore, dove abbiamo avuto tempo di leggercelo, di inquadrarlo e tutto, abbiamo espresso un voto favorevole già in questa fase. Noi siamo per il bene della nostra città, noi siamo per il bene di Tarluisano e quindi non ci facciamo coinvolgere in stereotipi, io dico in atteggiamenti di tipo isterico politico, rattino isterico politico. Quindi ci comportiamo a seconda di quello che è giusto, che riteniamo giusto per la nostra città. Così come di iniziative serie, su argomenti seri, non ne abbiamo parlato oggi in Consiglio, ma abbiamo già chiesto un incontro ufficiale al Sindaco. Per esempio, anche in questo Consiglio, nel momento in cui ci siamo espressi a proposito di un incontro a livello comunale, per organizzare un Consiglio comunale sulla tematica dei consorsi di bonifica, è chiaro che lo facciamo non come parte, perché siccome c'è Emiliano in Regione, allora siamo contro la Regione. No, l'ho detto in modo chiaro, la Palissiano l'abbiamo detto. I consorsi di bonifica sono sorti, ma molti, molti anni fa, ed avevano il significato di difesa del territorio, di sviluppo agricolo turistico del territorio. Ad oggi non stanno più da decenni rivestendo questo ruolo, quindi va fatta una modifica forte dell'ente consorzio di bonifica, affinché adempia quelli che sono i suoi principi per cui è nato. E noi, come da Luisano, possiamo essere fulcro, motore, propulsivo di questo tipo di iniziativa. Però, dottore, questa iniziativa era stata già proposta dal Consigliere Liuzzi, quella di oggi la sua forza è stata un'assenza anche ingombrante, quindi non condividete quella proposta che lui ha fatto, quel punto all'ordine del giorno, proposta del punto all'ordine del giorno del Consiglio del 7 di agosto? Assolutamente. Quel Consiglio Comunale, che poi era il precedente, voi ricordate benissimo che rimasero tutti spiazzati, perché il punto all'ordine del giorno, io chiedevo di parlare perché eravamo favorevoli a che venisse adottato quel punto, ad un certo punto mi usciva il cerchetto rosso per cui dissi, quando dice, deve intervenire, fece l'intervento di Liuzzi, intervento il sindaco in, tra virgolette, rafforzando le tematiche di quel punto, e poi intervene la vice sindaco, l'assessore, chiedendo il rinvio di quel punto. Beh, al che dicemmo, non ricordo se fuori microfono o in microfono, guardate, basta che vi decidete, chiedete una sospensione e mettete di accordo fra di voi. Quindi noi eravamo favorevoli a quel punto, tanto è vero che il Comitato che si muove per evitare quelle cartelle sattoriali ingiuste, ecco, definiamole così perché tecnicamente quelle sono, siamo intervenuti anche all'incontro di Liuzzi e all'incontro di Liuzzi il consigliere Liuzzi e gli altri del Comitato, credo che fosse, no, credo che fosse uno delle partite IVA, un rappresentante, un altro consigliere, hanno ringraziato l'amico mio, Pari del Malzolta, consigliere regionale di Forza Italia, che gli ha favorito l'audizione in regione. Quindi noi abbiamo le idee chiare, però ovviamente non apparteniamo a schematismi, stereotipi di tipo partidico perché a noi sta a cuore la nostra gente, il nostro popolo. Ecco perché ci comportiamo in questo modo, che agli stereotipi di una volta che l'opposizione doveva votare sempre contro, non ci appartiene proprio, qua si tratta di ragionare, di qualificarsi, di studiare gli argomenti per avere il meglio per la nostra città. E questa è la nostra forza di opposizione. Mi riferisco ovviamente ai consiglieri comunali Orlando, al consigliere comunale Preide, che insieme tutti e tre ragioniamo e ovviamente cerchiamo di dare il massimo nell'interesse del nostro popolo. Dottore, usciamo un attimo dal Consiglio Comunale. Ci spostiamo alcuni giorni fa. C'è stato un comizio, due anni di amministrazione e guidano. Lì, se la vostra è un'opposizione costruttiva di dialogo, non sono mancate le frecciate verso la precedente amministrazione, verso campanelle non consegnate, diciamo, ai saluti. È una situazione quasi disastrosa, così è stata definita, lasciata dalla sua amministrazione. Chiariamo anche questo passaggio. Io non so se faremo un comitio, non lo so, ma comunque già vi dico che le stesse cose le ha dette esattamente due o tre volte da quando è stato eletto. L'unica cosa vera è della campanella, perché purtroppo la televisione fa vedere il passaggio dei vari presidenti del Consiglio dei Ministri con la campanella. Io quel giorno, tra virgolette, non andai proprio sul comune. E quella è l'unica cosa vera, che non ho preso una campanella o mi sono fatto prestare una campanella per passarla. Quella è l'unica cosa vera. Tutto il resto è assolutamente artificioso e falso. Iniziamo dal fatto che in Consiglio Comunale gli ribadì il concetto delle quattro raccomandazioni, che mi sembrano quattro i poveri fogli, la Corte dei Conti ha inviato alla Municipalità di Taluisano come ad altri. Erano raccomandazioni. Fra l'altro alcune di quelle raccomandazioni le avevo attuate io, perché quando sono stato eletto non ho avuto il tempo, né per comizi, pochissimi forse, o se non nessuno proprio, né tantomeno mi sono dedicato a polemizzare con tutti i sindaci e amministrazioni di centro-sinistra che mi avevano preceduto. Non me ne frega un tubo di criticare nessuno. Io devo impegnare il mio tempo per fare le cose. Di quelle quattro raccomandazioni, raccomandazioni, perché la Corte dei Conti nel momento in cui c'è qualche illecito fa la debito, attenzione, di quelle quattro raccomandazioni, la prima che già attuai senza raccomandazione della Corte, ma perché l'amministrare correttamente lo conosco, è stata quella di... avevamo accantonato minimo da due o tre amministrazioni precedenti circa 500.000 euro, vado a braccio tecnico, non ricordo preciso, 500.000 euro per una causa con gli eredi del dottore Guido Prede, che avevano perso la prima, erano andati in Cassazione. La prima cosa che feci, sai qual è? Convocai gli avvocati di tutte queste cause dove tenevo soldi bloccati, nel caso specifico 500. Dissi avvocato, scusi, perché io ho l'intelligenza dell'umiltà. Forse non ne capisco molto, dissi, ma il ricorso, quanti anni dura? 4-5, minimo, dottore, pure di più. Ma noi l'abbiamo vinta la prima. Ok. Allora chiamai i funzionari, feci la riunione di giunta e spostammo e lasciamo solo 100.000 euro là. Ed è una della raccomandazione, a Corte Conti, che diceva non accantonate somme ingenti per eventuali ricorsi, perché poi ti fai la variazione del bilancio, ma intanto li metti in movimento. E' chiaro. Poi debiti, la mia amministrazione non ha lasciati, ha lasciato 400-450 di 1.000 euro liquide, nel senso di avanzo di amministrazione, che appena uno entra le può giustare. Poi, se avessi lasciato enormi debiti, il primo atto dell'aumento, del raddoppio dell'indennità degli assessori del Stato, beh, non avrebbero avuto i soldi per farlo, no? Poi, dopo questo atto, è uscita una norma che dice che, qualora gli assessori rinuncino al massimo dell'indennità, quei soldi ritornano allo Stato. Quindi, il secondo, tra virgolette, aumento, era consagrato da questa norma. Però la norma dice, non dice che quei soldi dell'indennizzo di amministrazione li devi... puoi farne ciò che vuoi, è come se fossero i soldi di un'entrata in uno stipendio. Quindi, magari, forse lo dottore Stasi l'hanno detto, sì, vabbè, lui ha rinunciato perché fa il dottore e guadagna. No, no, io guadagno come guadagna chiunque lavoratore. Però, se i soldi non fossero stati miei e fossi stato costretto, nell'interesse della mia città, di non rinunciare a quei soldi, non lo so. Credo che ci sia ancora un regolamento che permette, anche in forma anonima, di dare dei soldi, fare dei lasciati al Comune, magari affinché venissero gestiti questi soldi dai servizi sociali, non su indicazione di chi li lascia, perché li può lasciare qualche anonimo. Non mi risulta che ci siano stati versamenti anonimi in questi due anni. Grazie, dottor. Grazie a voi.